Salerno rivive il mito del Grande Torino, un simbolo dell'Italia che esce fuori dalla Seconda Guerra Mondiale e che unisce il mito del Giro d'Italia vinta in volata da Fausto Coppia al calcio. A pochi giorni dall'anniversario del 17 aprile del 1948, quando Salerno visse uno dei giorni più importanti della sua storia sportiva, allo stadio Donato Vestuti, progettato dall'ingegnere Camillo Guerra e originariamente chiamato Campo Littorio, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1952, denominato Stadio Comunale, si è svolta una cerimonia sotto la lapide retta il 24 maggio del 1949, su iniziativa del consigliere comunale Gennaro Avella, presidente della Quarta Commissione Sport, Politiche Giovanili ed Innovazioni. Il 17 aprile del 1948, davanti a 14.000 spettatori entusiasti ed estasiati, la squadra di Gipo Viani in maglia gialla per dovere di ospitalità ospitò al Comunale il Grande Torino e i Granata del Sud passarono anche in vantaggio prima che la squadra ospite si scatenasse andando a segno quattro volte. Quel Torino era in pratica la nazionale italiana che avrebbe vinto ancora numerosi titoli se la sorte non avesse trasformato la sua incredibile storia in leggenda immortale. Il 4 maggio del 1949, di rientro da una gara amichevole a Lisbona, l'aereo che trasportava la squadra ed alcuni dirigenti e giornalisti, si schiantò sulla collina di Superga, quando ormai era un passo da casa. Il presidente della Quarta Commissione Sport, Rino Avella, ha ospitato il dirigente del Toro, Alberto Barile, accompagnato dall'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, dalla responsabile comunicazione Mare Andrea. Presente è anche l'onorevole Piero De Luca e la giornalista del quotidiano Cronache, Olga Chieffi.